e veniamo adesso alla pagina sportiva e cominciamo con il calcio non è riuscita la nazionale azzurra di Roberto Mancini di eh andare in finale di National League a Endschede in Olanda i azzurri sono stati sconfitti per a due a uno in semifinale dalla Spagna con i gol che erano stati segnati nel primo tempo dagli iberici al terzo minuto con il vino che aveva approfittato di una eh disattenzione della difesa azzurra. Il pareggio è arrivato intorno all'undicesimo minuto del primo tempo su calcio di ricorre trasformato dal capitano della Lancio Ciro Immobile. Nel secondo tempo l'Italia è sembrata meno aggressiva rispetto alla prima frazione e di questo ne hanno approfittato gli iberici che a due minuti dalla fine poi hanno segnato il gol definitivo con Iuseno. In finale la Spagna affronterà la Croazia nella gara serale delle ore venti mentre l'Italia affronterà per il terzo posto alle quindici di domenica pomeriggio l'Olanda che era stata sconvita in semifinale proprio dalla nazionale croata nei tempi supplementari con il monteggio di quattro a due.